Il Paradiso delle Signore, anticipazioni finale, torna da Marco e dovrà scegliere. Cosa succederà nell'atteso finale del Paradiso delle Signore 7? Quali saranno i colpi di scena che terranno banco nel corso delle ultime puntate di questa seguitissima settima stagione? L'appuntamento con la soap opera prosegue con successo nella fascia del pomeriggio e al centro dell'attenzione e delle dinamiche ci saranno le vicende di Marco e Stefania. I due fidanzati si ritroveranno insieme a Milano e, per la figlia di Gloria, arriverà anche il momento della fatidica e attesa scelta finale, dopo aver vissuto un momento di crisi. Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale del Paradiso delle Signore 7 rivelano che dopo il suo ritorno in città e dopo aver ammesso di essere alle prese con un periodo non facile con la sua fidanzata Stefania, Marco si ritroverà a dover affrontare il ritorno della ragazza. Per le ultime puntate di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, è previsto il rientro in città della figlia di Gloria. La ragazza, dopo aver scelto di perseguire la carriera professionale in America, rimetterà a piede a Milano e per lei arriverà il momento della scelta. Sì, perché nel corso dell'ultimo periodo, Stefania ha avuto modo di risentire il suo espasimante Federico che già qualche mese fa era tornato nella sua vita, facendole recapitare una lettera che la ragazza scelse di tenere nascosta al fidanzato. Di conseguenza, Stefania non potrà più far finta che non sia successo nulla e con il suo rientro a Milano nel gran finale di questa settima stagione del Paradiso delle Signore. Si ritroverà a dover fare una scelta finale. Accetterà di portare avanti la relazione con Marco, oppure si renderà conto di non essersi mai lasciata alle spalle la relazione con Federico? Potrebbe lasciare Marco per Federico? In attesa di scoprire quella che sarà la scelta finale di Stefania nelle ultime puntate del Paradiso delle Signore 7. Occhi puntati anche sui genitori della ragazza. Ezio e Gloria si lasceranno andare alla passione travolgente e questo riaccenderà alla fiamma di quella intesa che credevano di aver ormai perso. Di conseguenza, la situazione per Ezio diventerà particolarmente complicata, da un lato c'è la sua promessa sposa Veronica e dall'altro questo ritorno di fiamma inaspettato con Gloria. Anche per lui, quindi, arriverà il momento della fatidica e attesa scelta finale, riprenderà in mano le redini del suo matrimonio con la mamma di Stefania? Lo scopriremo nel corso del finale di questa settima stagione. Anche per lui, l'execut ca Maria Antoaneta. Anche per lui, l'execut ca Maria Antoaneta. Anche per lui, l'execut ca Maria Antoaneta. D'aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumele tante printre dalea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri puite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru Viboiul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un...